Questo è importante di questo attacco, prima la reazione sua è giusto, questo è giusto? Ok? Ok? Bravo, ecco, ok? No, no, si, già bene, già bene, quando lasci la faccia l'altra parte... Così, così, giusto? Posso entrare? Non ho bisogno di andare dietro là. Ok, è sicuro. Adesso è troppo lungo il corpo. Tira a me, senti la pressione, tiri, senti, vai dentro, tiri, 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 tiri. Non fai tu, non io, io faccio un secondo. Questo è il pressione. Giù, giù, ecco, ecco, adesso è pericoloso per me, di nuovo. Ecco, si, rilassato, così giusto, ok? Adesso puoi fare la difesa. Pio, pio. Pio, pio, pio. Bene, bene, vai. Altra cosa che è mancato, che lui fa giusto, è mano prima del... mano prima del colpo. Ok? Così non posso... vai. ... No, 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 no. Vedi la differenza tra me e te, tu andavi indietro, io vado in, ecco, guarda, guarda, facciamo, vai, questo è il mio obiettivo, ok? Ma quando fai giusto, mi metto in posizione, allora, così, ma non vado indietro, ok? Andi, ecco, vai, ecco, 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 ecco. Eccolo, ecco. Eccolo, ecco. Grazie a tutti.